Dall'osservatorio di Federal Privacy si rileva che 18.000 sono gli addetti ai lavori che si aggiornano regolarmente sul regolamento europeo, sulle evoluzioni che ha questa materia, ma d'altra parte questa cifra, seppur rilevante, è assolutamente inferiore rispetto alle oltre 50.000 nomine di Data Protection Officer che sono state notificate dal garante per la privacy. Questo denota una scarsa preparazione da parte degli addetti ai lavori e un rischio per la tutela della privacy dei cittadini. Sicuramente occorre quindi rimboccarsi le maniche per gli esperti della materia affinché siano dovutamente preparati.